Un saluto e benvenuti. Vorrei con voi fare qualche riflessione e rispondere a qualche domanda. Ad esempio, quante volte ci è capitato di sentirci inadeguati nelle situazioni? Quante volte avremmo voluto comunicare meglio, in maniera più efficace, con chi ci stava intorno? Che siano stati parenti, amici, colleghi? E quante volte, di fronte a un cambiamento, abbiamo reagito in maniera non efficace? E ancora, quante volte ci siamo posti degli obiettivi ambiziosi e non siamo riusciti a raggiungerli? E allora, per risolvere tutte queste questioni e per trovare una strada che ci consenta invece di arrivare dove vogliamo arrivare, che cosa potremmo fare? Quello che noi proponiamo è il Life Coaching. Che cos'è? È un programma basato su incontri individuali, di un'ora, un'ora e mezza circa, un paio di volte al mese, non di più, perché è importante tra un incontro e l'altro avere la possibilità di riflettere, di fare esercizi, di meditare su quello che durante le sessioni diciamo, e nell'arco di qualche mese riuscire ad individuare quella che è la strada individuale, individuale, perché ognuno ha la sua. Se sono riuscite a incuriosirvi e magari volete approfondire quello che stiamo dicendo, non avete altro che da scrivere all'indirizzo mail, che vedete in sovraimpressione. A me non resta che augurarvi tanta serenità e tanti successi. A presto. A presto.